Per come si stanno mettendo la partita secondo me è un punto guadagnato perché andare sotto a così poco dalla fine, riuscire a pareggiare subito, guardando anche i risultati delle altre, ci fa rimanere lì e lo prendiamo come una cosa positiva, come lo spirito giusto per le prossime partite. Cercano sempre di dare una mano alla squadra, di stare vicino alla squadra e penso che il loro venire qua sia un modo per far capire che loro stanno vicino a noi e che bisogna stare uniti, che è l'obiettivo lo stesso per tutti. Il primo tempo abbiamo iniziato molto bene, siamo andati a prenderli alti, i primi minuti abbiamo avuto qualche occasione, poi mezza occasione loro, noi siamo un po' impauriti e siamo andati un po' indietro, però la ripresa è stata meglio, più occasioni noi, secondo me dobbiamo giocare più liberi e far vedere, giocare il nostro calcio, quello che sappiamo fare, speriamo che la prossima meglio vada.